Buona serata da Eleonore, stasera svolgo una stesa a carattere generale sulla situazione di maggio a livello coronavirus. È una stesa che vi darò le informazioni essenziali e basta, sia perché devo rispettare le leggi della community, eccetera, e di tante cose che vi spiegherò nel mio gruppo privato su Facebook, gruppo specifico per le letture del Covid. Sono tante letture che possono essere caricate e io riesco a gestirla bene. Tante persone mi hanno chiesto di entrare, alcune hanno difficoltà nel senso che sono poco pratici di Facebook. Comunque io li aspetto, non ho fretta e appena saranno in grado anche loro entreranno. Per quanto riguarda invece i vari truffatori che girano sul web, di cui mi è stato, mi viene sempre riferito dai miei assistiti quello che fanno, perché ci sono dei gruppi privati dove fanno passare la mia informazione, la mia conoscenza che fruisco a voi attraverso questi video gratuiti riguardo la situazione virale in Italia e fanno finta di essere informazioni proprie. Quindi questa cosa, anche questa, non la sopporto e il gruppo privato che ho creato mi permette di tutelare le conoscenze che passo e di darle solo ai pochi che meritano di ascoltarle, ossia a chi si iscrive al gruppo. Gli altri fanno a meno di avere queste informazioni, come in tutte le cose. Hanno un valore immenso le mie letture, quindi non le passo assolutamente a dei gruppi che le fanno passare per proprie e di questo ve ne parlerò anche nel gruppo privato. Poi faremo anche delle letture nel gruppo privato, delle dirette e tante altre cose comunque dove potrete interagire, fare domande eccetera. A una delle mie scritte ho già detto di inviarmi una lettura specifica che vuole sentire per le prossime volte, poi verranno confrontati questi vari strumenti che io ritengo inutili per la difesa per questo virus, per la popolazione che non so neanche a nominare qui perché qui non si può e quindi niente. Ora faccio la lettura. Allora vi posso dire che il mese di maggio inizierà bene, però con dei contrasti già, nel senso dei contrasti già a livello economici ci saranno diversi problemi e su questo faremo un approfondimento soprattutto nel gruppo privato perché io vedo già molti problemi, soprattutto per i lavori indipendenti, per i liberi professionisti. Le attività che hanno aperto in questi giorni, verso metà mese, si troveranno in una situazione veramente complessa e che approfondiremo con chi di dovere in seguito alla metà mese, la situazione è veramente brutta. È una situazione complessa e posso dirvi solo che il virus tornerà a correre e tante partite IVA si troveranno fregati. e niente. Tutto il resto che vedo nella stesa lo porterò nel gruppo privato perché ne faremo un approfondimento. E qui non voglio creare troppi... non voglio spaventarvi oltre. Quindi fino a metà mese ci si può ancora ragionare, il resto no. Il resto lo valuteremo. Io vi auguro buona serata, apprezzo da Elon Musk.